Farsi un PC non è mai stato così semplice. Abbiamo finalmente aggiornato il nostro configuratore basato su intelligenza artificiale che vi aiuterà a realizzare le vostre prossime build. Fondamentalmente 10 anni di errori, esperienze e conoscenze di Mordentech riunite in una macchina attiva 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 anche durante le feste, per aiutarvi a configurare il vostro prossimo PC senza nessun errore e senza nessuna conoscenza pregressa. Fondamentalmente come avermi come amico disponibile 24 ore al giorno, il tutto su un sito completamente gratuito. Ma andiamo un attimino per ordine. Dalla prima volta che vi ho presentato il configuratore mi avete dato veramente tantissimi feedback e prima di tutto volevo ringraziarvi e come l'altra volta chiedervi magari un like, un commento, un'iscrizione per supportare questo progetto che stiamo portando avanti in completo autofinanziamento. Quindi di per sé a voi non costa niente, stiamo pagando tutto quanto noi per offrire il servizio migliore alla nostra community e all'Italia del PC gaming in generale. Abbiamo ricevuto oltre 500 feedback, tutti molto interessanti e importanti, ma soprattutto ce ne sono stati alcuni che abbiamo implementato praticamente subito a partire dalla settimana successiva al rilascio del nostro configuratore e che hanno aiutato a migliorare radicalmente quella che è l'esperienza di utilizzo del configuratore. Ora è molto più preciso nelle componenti che fornisce, abbiamo eliminato alcuni brand per essere sicuri di garantire sempre il miglior servizio o dei modelli specifici di altri brand che magari hanno generalmente un'offerta buona ma qualche prodotto un po' bidone sì e comunque in generale l'abbiamo migliorato grazie a voi e di questo ripeto vi sono molto grato. Ad ogni modo oggi ho un pochettino di novità perché l'abbiamo reso ancora più potente, abbiamo inserito ancora più opzioni basandoci appunto su quelli che sono stati i vostri consigli e vi faccio un pochettino vedere. Ma prima per chi non avesse ancora visto il configuratore di cosa stiamo parlando? Fondamentalmente è un sito completamente gratuito che vi offriamo noi di Mordentech per aiutarvi a configurare il vostro prossimo PC in maniera esatta con tutte le compatibilità già studiate direttamente dal configuratore e che riunisce praticamente quella che è la mia conoscenza in ambito PC in un sito attivo 24 ore al giorno. Praticamente è come se veniste da me e mi chiedeste mi fai una build a 1500 euro? Magari io in quel momento vi potrei anche rispondere ma siccome voi siete centinaia di migliaia io potrei anche non farcela rispondervi. Invece il sito è a vostra disposizione H24 per tutti quanti in contemporanea e mantiene lo stesso grado di qualità di quello che farei io. Tant'è che molto spesso quando una persona mi chiede una build io sfrutto il configuratore per farla perché è molto ordinato e molto molto bravo. L'intelligenza artificiale si sta facendo valere. Quali sono le caratteristiche fondamentali del nostro configuratore però? Si parte dalla home page in cui potete vedere un pochettino di componenti c'è la possibilità di andare alle build in evidenza che sono semplicemente tre delle build più richieste al momento premere e ottenete direttamente la build con una preconfigurazione. Nel momento in cui invece però vogliate configurare voi il vostro PC vi basterà premere appunto su configura il tuo PC e andare in questa sezione in cui avrete a disposizione molte opzioni per personalizzare il vostro PC. La prima è la tipologia di utilizzo potete scegliere tra gaming, editing e ufficio. Ufficio arriva fino a 800 euro perché ci sembrava il budget più corretto. Editing parte dai 1500 e arriva fino ai 3000 euro. Gaming invece parte dai 600 e arriva fino ai 3000 euro. Per adesso abbiamo limitato i budget perché abbiamo notato che fuori da questi binari insomma ancora c'erano un po' di problematiche che stiamo sistemando e onestamente non ci andava di dare fuori un prodotto che magari potesse in qualche modo creare dei danni alla nostra utenza o a chiunque voglia sfruttare il configuratore per realizzarsi un bel pc. Quindi di per sé scusate se per adesso non arriviamo a 5000 euro ma state tranquilli ci arriveremo in futuro. E già qui abbiamo tutto quello che ci serve. Qualora non avessimo preferenze particolari possiamo semplicemente inserire l'utilizzo, il budget e mandare in configurazione. E in pochi secondi il configuratore ci tirerà fuori una build basata su quel budget spremendo al centesimo quello che abbiamo da dargli. Come potete vedere ci sono tutte le componenti case, cpu, dissipatore, scheda madre, gpu, ram, storage e infine l'alimentatore. Per ogni componente viene indicato il prezzo esclusa la spedizione in caso di venditori terzi e se premete su mostra specifiche potete vedere anche alcune delle caratteristiche più interessanti del prodotto come per esempio la lunghezza massima della scheda video per quanto riguarda il case. Se magari il case in particolare che è stato selezionato essendo una cosa molto personale non vi piaccia potete fare mostra alternative e vi verranno date delle alternative prima con un prezzo simile o inferiore oppure nella seconda categoria con un prezzo più alto. Ovviamente ragazzi sarebbe sbagliato se questo fosse solo un cambio di case. Nel momento in cui scegliamo un altro case, per esempio qui allo stesso prezzo posso mettere l'XTVU ma eventualmente posso anche cambiare proprio brand o posso anche aumentare il prezzo, il budget del mio case e andare su un'altra situazione completa. Nel momento in cui io scelgo una componente tutte le altre vengono automaticamente ribilanciate per essere sicuro che la compatibilità sia giusta al cento per cento o che magari non ci siano problemi come per esempio temperature sbagliate. Se metto un processore più potente per esempio avrò un dissipatore più potente abbinato. In questo caso nessuna di queste componenti aveva particolari problemi con la selezione dell'Antec C5 a RGB quindi di per sé non è stato aggiornato niente. La compatibilità della GPU è molto alta e il resto va bene. Qualora il PC che vedo mi vada bene e non voglia fare altre modifiche mi basterà su premere su ordina componenti per poi riuscire appunto ad andare su Amazon e tutto quanto verrà aggiunto automaticamente nel carrello con la possibilità di fare l'acquisto direttamente. Molto semplice. Due click. E se magari vi fa piacere una volta configurato potete anche lasciarci un bel feedback sia positivo che negativo, costruttivo, quello che volete, in maniera da aiutarci a migliorare sempre questo servizio che per il momento è in beta ma per il 2025 vedrà la sua versione finale. Adesso però passiamo alle novità che abbiamo introdotto in questa nuova versione che aiuteranno tantissime persone secondo me. Prima di tutto un ripassino. Se voi state configurando il vostro PC e premete su altre opzioni verrete rimandati a questa sezione. Esattamente come al lancio il nostro configuratore vi permette anche una personalizzazione un po' più accurata di quella che sarà la build. Per esempio le prime quattro opzioni che abbiamo inserito sono la possibilità di lasciare il colore automatico oppure scegliere tra nero o bianco in base alle preferenze estetiche oppure se non ci interessa lasciamo auto e verranno utilizzate sia nere che bianche, rosa, gialle, verdi o tutto quello che può esistere. For factor possiamo passare da ATX a micro ATX a mini ATX e infine possiamo dare anche una preferenza per quanto riguarda i processori Intel AMD oppure per la scheda video Nvidia AMD o Intel addirittura che nella fascia bassa al momento secondo me è molto interessante. Basandoci sui vostri feedback molto molto utili però abbiamo aggiunto alcune cose in questa nuova versione. La prima è la possibilità di scegliere la tipologia di dissipatore. La prima opzione selezionerà quello che è il miglior dissipatore secondo noi mentre aria o liquido forzeranno appunto una delle due tipologie di dissipatore in base alle nostre preferenze e ci tengo a dire che abbiamo creato dei database sufficienti per supportare fino agli 9 sia ad aria che al liquido quindi di per sé siete liberi di scegliere in maniera completamente personale. Seconda sezione è la quantità di RAM. Come potete vedere qui ho questo piccolo slider che semplicemente dirà al configuratore di utilizzare una qualsiasi quantità di RAM dai 16 ai 128 giga o addirittura superiore in base alle compatibilità della scheda madre e del processore e delle necessità della build. Qualora io voglia però che per esempio vengano utilizzati massimo 32 giga farò così. Però qualora io svolga dei lavori intensivi in cui serve tanta capacità di RAM potrei selezionare e forzare la possibilità di utilizzare da 64 a 128 giga di RAM. Stesso discorso con lo storage semplicemente posso selezionare qual è la quantità ideale di SSD per me dando spazio alla maggior personalizzazione possibile 1 2 o 4 tera lasciando entrambe le voci complete così come le trovate ovviamente il configuratore farà la cosa migliore secondo la tipologia di build che sta creando. Infine sempre ascoltandovi abbiamo aggiunto questa sezione che vi permette di includere le periferiche per adesso soltanto il monitor ma stiamo lavorando anche alla parte delle periferiche come mouse cuffie e tastiera. Oltre a questo c'è la possibilità di includere la pasta termica semplicemente vi consiglieremo il miglior monitor per la build che state realizzando e la miglior pasta termica o comunque quella migliore come qualità prezzo che possiate scegliere. Qui ci sono due opzioni potete avere queste due componenti con un budget a parte oppure includere nel budget che avete selezionato. Se voi mettete un budget di 1700 euro e poi spuntate queste due caselline semplicemente nel budget verranno immessi anche il monitor e la pasta termica utilizzando quegli stessi soldi. Se no lasciando le spuntate vi verranno suggeriti a parte sopra il vostro budget. Ok andiamo a fare una build. Come potete vedere in pochi secondi ci viene restituita una build perfettamente compatibile con un dissipatore che riesca a gestire 7600X una scheda madre giustamente bilanciata per il budget di quel tipo di cpu. Volendo possiamo abbassare il budget banalmente scegliendo un 7600 mantenendo le compatibilità con il resto delle componenti. Ci viene messa una 4070 super in questo caso un tera di ssd perché per i gamer diciamo che un tera è l'opzione più generalmente giusta e il resto semplicemente quello che già conosciamo. E come potete vedere qui sotto il monitor è stato incluso nel budget semplicemente questi 250 euro sono stati allocati all'interno dei 1700 per essere appunto sottratti e per darci un monitor. Ovviamente sempre un clic e mettiamo tutto nel carrello su Amazon. In questo caso la nostra build è pensata per il 4k un po' scarso o per il quad HD bello aggressivo. In questo caso come monitor ci ha suggerito questo ottimo tough gaming che è un quad HD IPS 165Hz. Veramente un ottimo modello qui potete vedere alcune delle sue specifiche. In questo caso visto che c'è una scheda video di Nvidia ovviamente viene scelto un monitor che abbia la compatibilità con il G-Sync o il G-Sync direttamente. Oltre a questo viene suggerito un monitor che possa chiaramente valorizzare al meglio quella che sarà l'esperienza di gaming con quella determinata scheda video e processore. Quindi in questo caso un 1440p 165Hz fa coppia perfetta con appunto il 7600X e la 4070 Super. Qualora non ci piaccia ovviamente possiamo scegliere dei sostituti. Per esempio mostrando le alternative in questo caso possiamo fare un quad HD via 240Hz. Aumentiamo il refresh rate, diminuiamo la qualità dei colori in questo caso con questi due modelli specifici a confronto. Possiamo vedere le specifiche di questo singolo monitor che sarà un 16 noni, 1440p, in questo caso FreeSync Premium Pro che però è comunque G-Sync compatible, oppure ci viene proposta una soluzione analoga come questo LG che è fondamentalmente molto simile, oppure per chi voglia magari non vi interessa l'alto refresh rate, volete un monitor con dei colori più accurati oppure un ibrido e cose così, suggerisce questo ProArt che è un quad HD PS 75Hz. Al momento lo stiamo ancora beta testando, però poi verranno messe anche delle opzioni di risoluzione inferiore, magari un Full HD 240Hz e un Full HD 144Hz, per dare il massimo spettro di possibilità a chiunque voglia farsi un PC e aggiungere un monitor. Invece su prezzo più alto troveremo monitor di migliore qualità o di una fascia superiore come per esempio il 4K, qua ora la scheda video sia compatibile entro quei limiti. Però diciamo che con una 4070 Super difficilmente punti al 4K, ecco. Idem la pasta termica, in questo caso possiamo scegliere per esempio di aggiungere 5 euro e prendere 8 grammi, possiamo prendere altri modelli in base alle nostre necessità, possiamo prendere delle robe un po' più pazze come la Cryonaut, va tutto in base alle nostre preferenze. Per il resto scendendo trovate anche la nostra guida all'assemblaggio di un PC che appunto vi dice esattamente cosa fare con AMD, Nvidia e Intel, in ogni caso, e questo è quello che abbiamo lanciato per il Prime Day. Diciamo che comunque è passato poco più di un mese ragazzi, quindi non è che potessimo fare miracoli. Ovviamente ragazzi questi non erano tutti i vostri feedback, ce ne sono alcuni che magari sono un po' più corposi o richiedono più tempo, per quelli magari faremo un deploy durante il 2025, perché comunque ci sono tante ore di lavoro da mettere dietro ad alcune cose per essere sicuri di garantire sempre un ottimo livello di qualità. Noi cerchiamo di darvi il più possibile senza farvi spendere un centesimo di più. Semplicemente questo è un servizio che noi offriamo a voi in maniera del tutto gratuita. Qualora facciate un acquisto, ovviamente ve lo dico, Amazon ci riconosce una percentuale sullo stesso, però di per sé a voi non viene chiesto un centesimo in più. Avete tutte le nostre competenze in maniera gratuita H24 7 giorni su 7, tipo Nuketown su Black Ops. Alcuni dei vostri feedback più corposi sono stati ovviamente segnati, semplicemente cose come per esempio prendere una componente specifica da cui creare una build o per esempio creare un configuratore per gli upgrade richiedono un monte ore molto più ampio, in questo momento non era possibile farlo in meno di un mese e mezzo tra il Prime Day e il Black Friday. Però non vi preoccupate, sono tutte idee che vedremo appunto nel 2025. Questa è una grandissima rolling release, migliora ogni giorno e più feedback ci date, meglio lavoriamo. Quindi vi chiedo il vostro aiuto, like, commenti e iscrizione, soprattutto commenti che aiutano tanto con l'algoritmo, fatemi sapere la vostra opinione giù nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Per le offerte del Black Friday invece ci vediamo stanotte a mezzanotte e vi ricordo che allo scatter della mezzanotte tutte le offerte del Black Friday saranno automaticamente aggiornate all'interno del configuratore, quindi di per sé avrete anche la possibilità semplicemente di creare delle build con gli sconti dell'evento, cosa molto interessante spero. Per il resto ragazzi per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo, voi stati su Modern Tech, salamusa!